Che sta succedendo? Guarda chi si è svegliata! Come sono tornata qui! Ascolta, non è importante come si arriva nei posti, ma quello che succede in quei posti dopo che si è arrivati lì, qui. Eh? Allora, dov'è questo presunto ragazzo carino che vuoi conoscere? Oh, era... Eccolo lì, è quello con la giacca blu. Molto bene, io resterò qui e voglio che tu ti avvicini a quel ragazzino e gli dica ciao, io mi chiamo Paperheart e vorrei conoscerti meglio, così magari possiamo... C'è un insetto su uno di quei barattoli di che è! È uno scarpione! Ragazzi, ragazzi, adesso calmiamoci, ok? Sapete, sono stato un grandissimo giocatore di tennis ai miei tempi. Ti dispiace? Va bene, signor scorpione. Non la prendere sul personale, ma gioco, partita e... è schiacciata! Che cosa è stato? Jackson! Presto qualcuno chiami un'ambulanza! Svelti! Amico, perché non ti compri una racchetta migliore? Forza, tiriamolo fuori da sotto al caffè! Sapete com'è successo? Sì, c'era un enorme scarpio. Sono io l'adulto. Allora, a quanto pare, quello scaffale di qualità scadente si è staccato dal muro senza alcun motivo plausibile. Ok. Lei ha visto qualcosa? Senti, Popper, so che sei triste e mi dispiace che tu non abbia ottenuto l'incontro-scontro che volevi. Sì, ok. Credi che quel paramedico sia alto quanto me? Sì, perché? Mi scusi? Posso mostrarle una cosa dietro quella porta? Sì, va bene. Ehi! Ma che stai facendo? Non offronca resistenza! Lei ha un uniforme da paramedico! Non è più così! Ma che stai facendo? Lei non è più totalmente Nein! La scrittura di Hispania Sì, posso fare